domenica scorsa sono andato a trovare mia suocero prunce di casetta nel suo giardino ha un albero di mandarini cinesi guarda quanti sono belli veramente belli i mandarini cinesi in linea di massima sono antiossidanti anti inviammatori poi azione antibatterica antipirale antimicrobica è un alleato contro l'invecchiamento contrasta l'azione dei radicali liberi tale azione risulta essere particolarmente efficace per gli occhi prevenendo la cataratta e la degenerazione maculare il mandarino cinese ha proprietà benefiche per l'apparato cardiovascolare grazie al potassio che stabilizza la pressione sanguigna e alle fibre che aiuta ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue beh sono tutte proprietà però per avere tutte queste proprietà una dovrebbe avere un bel albero di mandarini cinesi poi questi sono pesanti sono freschi eh cotti no cotti cotti e mangiati non è che ti mangi subito già passano una settimana questo è il buono poi un'altra settimana mi chiedo non li ho messi nel frigorifero li ho messi semplicemente nel mio magazzino vero che sono rigogliosamente freschi freschi mi sono ditta freschi 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 o freschi noi siamo freschi perché per essere mi è davvero bella stai a mangiare tutti i giorni eh ecco ecco ecco